sei della dea no perché sei qui saluto per trovare la mia amica quanto tempo lavori per la estrella non so cosa non so di nessuno ti verrà a salvare posso aiutarti a ritrovare la tua amica è in corso una guerra qui a tibana che sopravvivrai o no dipende solo da te mi sbala sola contro tutti questa sera le 21 20 rai 4